salve amiche e amici allora oggi iniziamo con questo signore anziano avete presente il classico soggetto che va all'estero questo mi è capitato lo dico personalmente perché è stata proprio una mia esperienza dolorosa di trovarvi all'estero con un italiano questo qui è il classico italiano che pretende che gli altri parlino tutti italiano le persone convinte che l'italiano sia conosciuto anche all'estero e questo è un po la figura barbina che ha fatto putin ieri che si è presentato in kazakhistan e ha detto il kazakhistan è praticamente una nazione dove si parla il russo praticamente praticamente per putin è il 30 per cento mentre il restante 70 per cento della popolazione parla la lingua ufficiale kazako ok quindi lui ha aperto la conferenza così lasciando la parola al presidente del kazakhistan sentito un po e lui inizia a parlare kazako perché è una nazione indipendente dalla russia dal 1991 e cosa fa la delegazione russa corre ai ripari esattamente ora bene allora cari amici cari amiche oggi saranno tanti argomenti interessanti molte dichiarazioni appunto particolari torneremo anche sui manifesti filo russi che circolavano in italia a settembre dove è stata fatta un'inchiesta molto interessante e ne approfitto anche per collegarmi a certi commenti che sono stati fatti anche nel mio canale parleremo della situazione al fronte e degli ultimi aggiornamenti e quindi mettetevi comodi come sempre prima di iniziare mi raccomando qui sotto al video iscrivetevi se non avete ancora fatto e lasciato mi piace se poi volete proprio fare un di più c'è il pulsantino per le donazioni o per abbonarvi al costo di un caffè al mese bene allora queste sono ancora le meravigliose reazioni in dopo la dichiarazione di putin che il kazakhistan è praticamente una nazione dove si parla il russo il presidente inizia a parlare kazako lui si aspettava che parlasse russo evidentemente ma anche no bene oltre a questo putin ha fatto anche altre dichiarazioni surreali del tipo sentite qua ha detto che l'europa è in banca rotta che tutte le nazioni europee stanno fallendo la germania si vende alla all'america la volkswagen sta fallendo e tutto quanto e lui dice come possiamo come possiamo comunicare con loro come possiamo comunicare con gli stati europei se stanno tutti fallendo come fai a parlare con questi partner dice putin come fai a trovare degli accordi se falliscono economicamente e non è colpa nostra se le relazioni con gli stati europei sono degradati fino a questo punto è solo il risultato dell'economia europea ottimo direi hai capito tutto non mi vedete in quella sto facendo il pollice in su con la mano destra ora in tutto questo la russia come sapete continua i suoi attacchi missilistici e droni sulle infrastrutture energetiche ucraine fra l'altro ecco notizia del giorno questa notte a mosca presso i tre club principali di mosca la polizia ha fatto irruzione ha fatto sedere tutti quanti con le mani dietro la testa perché ci sono anche i video questo un momento dopo ha costretto tutti gli uomini a essere prelevati e portati agli uffici di reclutamento ci sono stati poi anche pestaggi violenze e si questa è stata la polizia a mosca il fatto che sia successo proprio a mosca nei principali tre club beh è importante soprattutto se consideriamo che c'è un piccolo aspetto non insignificante no l'abbiamo già detto tante volte lo stipendio medio di un russo è intorno ai 300 euro al mese ok a mosca chi è che può andare nei club se non la mosca bene quelli che hanno i soldini in tasca i cosiddetti figli di papà moscoviti quindi non penso che questa sia una buona notizia onestamente detto questo andiamo avanti nei giorni scorsi come sapete la notizia più importante è stata l'uso da parte della russia di un missile balistico intercontinentale seppure a medio raggio come test sulla città ucraina di dnipro ha seguito poi una dichiarazione a mezzo stampa di putin in cui ha fatto minacce non tanto vaghe all'europa che questo è stato insomma un test di una nuova arma super mega iper imprendibile di nuova tecnologia russa in realtà è uscito proprio oggi una pubblicazione del ministero della difesa inglese ad opera dei servizi di intelligence in cui insomma si dice che quello che vi avevo riportato io al giorno 1 quando era appena stata comunicata la notizia dell'attacco si tratta di un missile irbm con una capacità fra i 3.000 e 5.500 km anche se alla fine ha fatto qualcosa come 800 km di tragitto e non è altro che una versione successiva dell'rs 26 niente di nuovo fondamentalmente e di sicuro non rappresenta una sfida diversa per il suo intercetto è esattamente un tipo di arma che esiste dagli anni 60 se non prima è un missile balistico in tutto e per tutto la cosa che viene riportata da parte appunto dell'intelligence britannica e che dicono che in realtà i russi più che qualche prototipo non ne hanno fatto circa dice che è molto probabile che la russia abbia solo una manciata di questi missili e che devono ancora entrare in produzione tanto che scusate tanto che la russia continua ad acquistare missili balistici e pezzi di artiglieria dalla corea del nord questo è un dato di fatto fra l'altro se parliamo di intercetto come vi avevo già parlato nei giorni scorsi esistono delle contromisure per i missili balistici per cui tutto inizia al momento del lancio come si vede in questo video vediamo se riesco a mostrarvelo meglio ecco il momento del lancio essendo missili grossi fanno molta luce un po' come i missili che raggiungono la stazione spaziale internazionale i rifornimenti per la stazione spaziale quelli che partono da Cape Canaveral per intenderci in Florida fanno molta luce e quindi si vedono molto bene dallo spazio soprattutto attraverso i moderni satelliti che hanno sensori infrarossi molto sensibili quindi il lancio viene visto dopodiché parte tutta una rete di satelliti radar che triangola la posizione per esempio in questo video vediamo il sistema Aegis in azione che in genere è posto su una unità navale questa determina il punto migliore per l'intercetto e lancia un missile SM-3 che a due stadi a sua volta rilascia questo oggetto che è il KV che sarebbe Kinetic Warhead per tradurlo in italiano proiettile cinetico una cosa del genere per il punto per il tratto terminale questo proiettile che vediamo in questo video ha dei sensori infrarossi o radar o combinati e poi da questi fuori escono dei getti che servono a orientarlo lo vediamo in questa sequenza vedete i getti questi sono dei getti molto potenti si chiamano RCS in termini spaziali che gli permettono di manovrare con assoluta rapidità e precisione e così di raggiungere cineticamente la testata e la distruggono con la semplice forza di impatto ci sono per esempio i test di questi oggetti fatti in laboratorio vedete non so se si vede hanno dei questi motorini a razzo sono talmente potenti che riescono a sollevarlo anche in atmosfera e vicino al suolo cioè per dare un'idea ok detto questo niente allora quindi soliti discorsi da parte di Putin mi è piaciuto molto questo intervento da parte di Kate Levchuk che dice caro Putin perché non saltiamo un po' di passaggi e passiamo direttamente alla fase in cui ti chiudi nel bunker e la fai finita come il baffetto della seconda guerra mondiale e che insomma potrebbe essere una soluzione potrebbe sono d'accordo passiamo alle dichiarazioni di Zelensky che a un'intervista ha parlato di quello che vi avevo riportato già due giorni fa insomma del fatto che ci sono un po' di pressioni da parte internazionale per chiedergli di abbassare l'età per il reclutamento a 18 anni ma in realtà lui giustamente dice che serve reclutare i giovanissimi se non riusciamo ad armare le attuali brigate che abbiamo dice abbiamo chiesto all'occidente di armare 10 brigate delle forze ucraine ma gli Stati Uniti e le Unione Europea hanno equipaggiato solo 2,5 brigate ha detto Zelensky questo è un po' in sintesi il suo intervento quindi sono in corso telefonate le cose sono un po' in questi giorni ci sono alcune telefonate e botta e risposta fra Germania e Francia per quanto riguarda proprio gli equipaggiamenti e gli aiuti fra l'altro ecco in una su questo fra l'altro ne ho sentito parlare anche oggi il telegiornale nazionale stiamo parlando di Rai 1 quindi sempre bello notare come il passaparola si trasforma sempre in qualcos'altro anche in Italia in Italia infatti il telegiornale si è parlato di dichiarazioni ufficiali di trattati di pace accordi di pace proposti da Zelensky ma in realtà Zelensky ha semplicemente fatto un'intervista venerdì scorso in cui in cui ha ipotizzato ipotizzato un cessato il fuoco solo a determinate condizioni condizioni che si parla di presenza della Nato in Ucraina Zelensky ha detto sarei disponibile a parlare di pace di negoziati di pace se la Nato intervenisse sul suolo ucraino stabilendo una non-fly zone proteggendo il territorio ucraino quindi con l'ingresso della Nato dell'Ucraina nella Nato voglio dire quindi questo è esattamente l'articolo e ne parla appunto il Kiev Post quindi fonte giornalisti rai che siete in ascolto prima di pubblicare gli articoli leggetevi il Kiev Post almeno si è parlato anche poi di un bilancio dell'Ucraina che potrebbe riprendersi entro 5-10 anni alla fine della guerra e questo ci sta nel senso come è avvenuto anche dopo la seconda guerra mondiale le città europee che sono state ricostruite è stato un processo che è durato dai 5 ai 20 anni in genere sicuramente ecco mi collego a quello che disse Costantin di Inside Russia diceva parole molto belle diceva l'Ucraina tornerà a splendere la Russia no passiamo alle notizie che arrivano dal fronte anzi meglio prendere la pagina di Mayakos che tanto ci mostra i progressi russi nell'area di Kurakove e questa è l'unica area tutta quest'area sud-est è quella in cui i russi in queste ore stanno ottenendo più progressi tutto il resto del fronte in realtà è diventato molto statico nella città di Kurakove i russi sono riusciti a spingersi in questo lembo di quartieri della città e questa concina per esempio mostra combattimenti a truppe in contatto e mezzi ucraini distrutti proprio in questo quartiere lo vediamo in queste immagini in alto vedete questi sono i palazzi di Kurakove come vedete cominciano a essere tutti butterati e crivellati dai colpi dell'artiglieria russa si trasformerà probabilmente Kurakove si trasformerà presto in un'altra Vojciask una distesa di macerie senza fine comunque non tutto è negativo infatti in quest'altra mappa vediamo che gli ucraini come viene riportato anche nella sintesi prodotta oggi dal Deistituto War che vi passo in descrizione gli ucraini a nord di Vugledar hanno lanciato una piccola controffensiva che ha ottenuto questi quartieri qui in quest'area quindi a sud di Kurakove mentre i russi stanno spingendo in questi settori dove vedete le frecce rosse allora continuano le proteste in Georgia e avrei voluto parlarne un po' più nel dettaglio con una nuova ospite che però purtroppo per le condizioni di salute non ha potuto esserci ieri adesso vedremo se farla nei prossimi giorni a Tbilisi le proteste continuano per strada ci sono stati anche scontri con la polizia 100 arrestati la polizia sta facendo davvero davvero male il suo lavoro in queste ore voglio dire non posso mostrarvi le immagini ma parlano da sole insomma spero che la situazione migliori e che porti a un cambio del del governo presto chiaramente sono un idealista però ecco quando vediamo la Georgia vediamo cosa può diventare un paese dove le influenze filorusse poi riescono a ottenere quello che vogliono e mi collego a questo proprio per parlare dei manifesti che sono apparsi in Italia a settembre ne avevo parlato in un vecchio video che aveva scatenato un po' di commenti commenti di vari gradi di intervento dove l'intervento più semplice del filorusso di turno era ma l'Italia non dovrebbe sostenere l'Ucraina per l'articolo 11 della Costituzione ovviamente questo è proprio un modo sbagliato di interpretare l'articolo 11 dove sembra che per la nostra Costituzione noi siamo un branco di pacifisti da da IP degli anni 70 insomma in realtà non è quello che dice l'articolo l'articolo parla del fatto che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa nel senso che l'Italia non andrà mai a fare quello che ha fatto la Russia in Ucraina per esempio non andrà mai di nuovo a invadere la Francia o l'Albania o l'Eritrea per dirne una o la Russia o dichiarare guerra agli Stati Uniti queste cose le abbiamo fatte in passato quindi le prime parole dell'articolo 11 dicono che siamo stati dei deficienti e che non dobbiamo più farlo questo è l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali consente però in condizioni di parità con altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni e soprattutto la cosa più importante dell'articolo 11 e questa promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo stiamo parlando della Nato cioè tutti i nostri interventi in Afghanistan Kosovo Serbia e per esempio Libia Iraq sono stati tutti interventi italiani delle nostre forze armate così come anche altrove che hanno rispettato profondamente questa parte dell'articolo 11 della Costituzione dove l'Italia si fa carico insieme alle altre nazioni della Nato e delle Nazioni Unite di intervenire in quei paesi che hanno bisogno di essere difesi di essere protetti o di stabilità ok questo è quello che fa l'articolo 11 molto importante da leggere in questa chiave e non come i pacifisti hippie degli anni 60 70 ora detto questo che voglio dire spero di non sbagliarmi magari è solo una mia interpretazione fatemi sapere a proposito di questi cartelli ho citato questo aspetto giusto perché appunto ne parleremo perché viene citato l'articolo 11 però vi rileggo un commento che ho ricevuto il 9 settembre quando ho pubblicato queste notizie ok da una certa fiorella ve lo leggo perché è interessante e ci servirà come chiave di lettura per tutta l'analisi che viene fatta da questo utente ga lucio ok fiorella mi scriveva ci tengo a precisare che l'iniziativa dei cartelloni è stata presa da liberi cittadini che si sono autofinanziati me compresa e che hanno fatto tutto in piena legalità e correttezza che non sono sponsorizzati da alcun partito né tantomeno si nascondono dietro ideologie politiche che siano di destra o di sinistra né tantomeno dietro alcun simbolo di colore rosso o nero o verde o giallo definire poi c'è qui c'è un attacco personale definire queste persone corrotte o diffamatorio scusate definire queste persone corrotte e diffamatorio da parte sua ci pensi bene prima di fare certe affermazioni fino a prova contraria in Italia esiste anche il diritto di esprimere le proprie idee la libertà di pensiero è valida per tutti è vergognoso da parte sua giudicare e sentenziare su chi non segue il suo pensiero unico lei dice di vergognarsi per chi ha aderito io posso affermare lo stesso per lei affermare che i mezzi militari sono americani conferma che è la NATO che sta combattendo questa guerra è la NATO che l'ha voluta è provocata e chi governa in Ucraina si è arricchito sulla pelle del suo popolo questa guerra è utile solo al potere angolo americano visto che alcuni paesi europei Italia compresa sono in piena crisi socio-economica e chi giova a chi giova tutto questo alla Russia non credo riguardo poi alla geo-ingegneria inseminazione delle nuvole scie chimiche e 5G sono fenomeni ormai acclarati e se lei non li vede è un suo problema definire indegno il pensiero di una parte di italiani la contraddistingue come chi non rispetta il pensiero altrui sì onesto ve lo dico proprio io non rispetto il pensiero altrui mi dispiace no soprattutto se è un pensiero che parla di 5G scie chimiche e geo-ingegneria voglio dire che cosa c'è da rispettare non è questione di opinioni qui stiamo andando oltre però esattamente proprio in virtù del fatto che l'Italia è un paese democratico la farnesina si è espressa molto chiaramente sull'invasione russa dell'Ucraina proprio per una questione di coerenza e di essere italiani non è tollerabile esprimere opinioni filorusse non esiste una cosa del genere se sei italiano chiaramente se sei russo e sei cresciuto nato e sei andato avanti con il lavaggio del cervello della propaganda russa posso anche capire che un russo abbia quel tipo di idee ma per un italiano siamo veramente al paradosso detto questo chiaramente siamo in un paese libero e democratico e ognuno ha diritto di esprimere la sua anche quando dice bestialità e assurdità comunque ecco vi ho letto questo intervento giusto per capire il livello e sottolineo ci tengo a precisare che l'iniziativa dei cartelloni è stata presa da liberi cittadini che si sono autofinanziati me compresa e che hanno fatto tutto in piena legalità e correttezza che non sono sponsorizzati da alcun partito né tantomeno si nascondono dietro ideologie politiche sia di destra o di sinistra ok questo era il commento bene sentite un po' l'analisi di Galuccio perché appunto essendo in Italia e ognuno è libero di esprimere la sua ha fatto questa importante analisi degli eventi di settembre l'ufficiale delle forze scusate l'ufficiale dei servizi di segreta segreti della federazione russa che gestisce le reti filorusse in Italia è Alexei Stovbun che è su appunto l'iniziativa delle campagne sui cartelloni fino a revoche di cittadinanza è una rete delle spie dei servizi segreti russi ha influenzato sistematicamente la politica italiana attraverso le cosiddette organizzazioni culturali Italia russa a settembre una campagna di cartelloni pubblicitari filorussi è apparsa in molte città italiane con lo slogan la Russia non è nostro nemico sotto l'immagine di una stretta di mano fra Italia e Russia la campagna chiedeva di porre fine ai finanziamenti per le armi per l'Ucraina alcuni per esempio quelli visti a Roma con l'aggiunta del messaggio basta soldi per le armi per l'Ucraina vogliamo la pace e rifiutiamo la guerra l'ambasciata ucraina in Italia ha risposto rapidamente alla campagna dicendo di essere profondamente preoccupata per l'arroganza della propaganda russa proprio nella città eterna e chiedendo alle autorità locali di riconsiderare la concessione dei permessi per tali manifesti che hanno un chiaro scopo di riabilitare l'immagine dello stato aggressore più chiaro di così poi ecco qui c'è la pagina dell'ambasciata ucraina voglio dire è ovvio è ovvio che queste concessioni sono state date in barba alle leggi italiane alle leggi antiterrorismo visto che la Russia è uno stato terrorista e pubblicare un cartello del genere è appunto finanziare letteralmente quel tipo di ideologia siamo agli antipodi rispetto alla nostra democrazia è ovvio ed era ovvio che questi cartelli avevano a che fare con la propaganda russa cioè non è che stiamo parlando di liberi cittadini ma ci arriviamo seguitemi ora tolta punta le azioni dell'ambasciata ucraina anche la CNN quindi stiamo parlando già di emittente americana no inglese credo che sia se mi ricordo bene ha parlato della campagna cartellonistica italiana putiniana riportando che un gruppo italiano questa indagine della CNN chiamato sovranità popolare ha rivendicato la responsabilità della campagna pubblicando un lungo articolo sul suo sito web ok gruppo italiano sovranità popolare non so se vi leggo vi ritorno a leggere il commento sulla mia pagina ok l'iniziativa dei cartelloni è stata presa da liberi cittadini che si sono autofinanziati che non hanno a che fare con orientamenti politici ok cara Fiorella scrivevi il 9 settembre che il gruppo fra l'altro continuo a leggere l'articolo il gruppo ha citato l'articolo 11 della costituzione italiana sottolineando il rifiuto dell'italia alla guerra come mezzo di aggressione patapì patapà ovviamente dimenticandosi le parti più importanti poi dell'articolo 11 sovranità popolare ha anche accusato i sostenitori della causa ucraina politici e media italiani di alimentare la paura e la russofobia dall'invasione russa dell'ucraina accusandoli di deliberato incitamento all'odio verso il popolo la cultura e l'arte russa a questo punto se fossi romano direi estica scusate 11 però sovranità popolare anche se dichiaratamente filorussa ha negato di essere responsabile della campagna pubblicitaria in tutta italia aggiungendo che anche se i cartelloni dovessero essere rimossi dalle strade italiane la campagna continuerebbe con altri mezzi quindi ricapitolando sovranità popolare ha agito nella zona di roma ma io e i cartelli che vi ho mostrato sul mio canale in realtà gironsolavano con un camion nell'area del veneto ok e infatti galuccio poi ci porta ancora altre informazioni preziose massimiliano coccia in una sua inchiesta giornalistica ha individuato il coordinatore della campagna domenico agliotti attivista anti 5g putiniano ex consigliere comunale a roma scusatemi ma io sono ignorante che cos'è un attivista anti 5g cioè io ieri sono andato a comprarmi il telefonino nuovo cioè dovevo aspettarmi qualcuno fuori dal negozio perché me lo impedisse ok coccia giornalista chiede se agliotti abbia finanziato la campagna in modo indipendente o abbia ricevuto sostegno esterno agliotti ha poi affermato che la campagna era stata finanziata da molte persone e coccia giustamente ha criticato le autorità di roma per non aver rimosso i manifesti e ci sta nonostante la russia sia l'aggressore dell'ucraina ok continua l'articolo gli uomini di mosca in italia la campagna pubblicitaria pro russia di settembre ha comunque una corrispondenza con una azione simile della scorsa estate inoltre mentre sia sovranità popolare che domenico agliotti hanno negato qualsiasi collegamento con la russia le prove suggeriscono che la campagna estiva può di fatto essere collegata a veri e propri agenti russi in italia la campagna estiva ha riguardato numerosi manifesti in tutta italia a partire dal nord est roccaforte del partito della lega qui non posso dire diciamo devo stare attento a quello che dico oggi mi sa è stata coordinata dall'associazione culturale veneto russia presieduta da palmarino zoccatelli qui riporto sempre il post di galuccio oggi quindi in questa foto vediamo un cartellone fra l'altro in risposta a queste questi cartelli apparve se ve lo ricordate un cartellone in cui veniva detto che la russia in realtà è il mio nemico e le mani infatti erano insanguinate zoccatelli dice è un attivista italiano filorusso presidente dell'associazione culturale veneto russia la sezione veneta dell'associazione culturale lombarda russia pro cremblino fondata dai membri dell'associazione culturale di estrema destra italiana della lega come l'organizzazione principale la filiale di zoccatelli è stata fondata nel 2014 con l'obiettivo ufficiale di rafforzare i legami culturali e politici fra il veneto e la russia proprio dall'inizio della guerra russa contro l'ucraina nel 2014 continua l'articolo zoccatelli è stato coinvolto in numerose azioni per promuovere gli interessi russi in italia e altrove specialmente nei territori dell'ucraina occupati dalla russia ha svolto il ruolo di falso osservatore internazionale alle elezioni regionali nella cosiddetta repubblica popolare del donesc e nel 2019 ha persino aperto un centro di rappresentanza della dnr a verona qui ci sono gli articoli ok la lobby del cremlino in europa in italia si parla oltre a zoccatelli il consiglio della sua associazione presenta due figure di spicco dell'ambiente filorusso italiano stefano valdegamberi e eriseo bertolasi valdegamberi è un attivista filorusso di lunga data che è stato fino al 2023 legato al partito della lega nord ha partecipato a diverse missioni di osservazione in russia e in crimea annessa alla russia nel 2016 ha introdotto con successo una risoluzione non vincolante nel consiglio regionale del veneto condannando le sanzioni dell'unione europea contro la russia e sostenendo il riconoscimento della crimea da parte dell'unione europea come parte della russia questo è quindi cari amici e care amiche capito com'è la situazione in italia è chiaro che tutto quello che viene detto se è vero perché ripeto qui siamo in democrazia ognuno può dire la sua giusto io mi sto facendo semplicemente portavoce del post di indagine aperto da galuce per cui se ci sono persone che possono dimostrare il contrario sono benvenute che lo scrivano nei commenti possono venire anche ospiti da me però capite che tutto quanto è stato raccolto da galuccio è completamente in antitesi con il commento fatto dalla gentilissima e carissima signora fiorella che mi scriveva lo ripeto ancora una volta ci tengo a precisare che l'iniziativa dei cartelloni è stata portata da liberi cittadini che si sono autofinanziati me compresa e che hanno fatto tutto in piena legalità e correttezza che non sono sponsorizzati da alcun partito ecco dove sta non so se si vede che non sono stati sponsorizzati da alcun partito né tantomeno si nascondono dietro ideologie politiche sia di destra che di sinistra chiaro ora cara signora fiorella le ipotesi sono due o ha scritto questo commento mentendo e sapendo di mentire oppure come dire è stata tranquillamente raggirata e non solo raggirata ma se è vero quello che scrive dicendo che avete finanziato questi manifesti avete quindi fatto una raccolta fondi avete realizzato la grafica quindi avete pagato un grafico per avere queste immagini che guarda caso sono identiche a quelle che circolavano a Roma quindi qualcuno conoscendo la materia perché sono stato nella pubblicità anch'io per tanti anni nelle produzioni video per realizzare un manifesto del genere o hai il font quindi evidentemente in Veneto qualcuno ha contattato chi ha fatto questi manifesti a Roma si è fatto dare il file lo ha modificato lo ha stampato quindi c'è un processo sono stati pagati i soldi avete raccolto soldi avete dovuto parlare con le amministrazioni locali per avere le autorizzazioni e in qualche modo le avete raggirate perché per la legge italiana una fissione del genere non sarebbe consentita quindi in tutto questo evidentemente se è vero quello che lei dice siete stati bellamente raggirati da personaggi ben al di sopra di voi poi non commento tutto quello che riguarda geoingegneria inseminazione delle nuvole scie chimiche e 5G bene amici e amiche come sempre no il mondo è questo spero di esservi stato utile oggi per fare chiarezza su questi argomenti ripeto poi apro la possibilità di replica qui siamo in democrazia e vi auguro un buon fine settimana buon sabato a tutti come sempre fatemi sapere nei commenti un abbraccio alla prossima